Domenica 6 ottobre arrivano a Pordenone i coloratissimi ludobus, i furgoni che portano in giro il divertimento. Dalle 10 alle 18 in piazza 20 settembre i bambini dai 0 a 99 anni potranno giocare con i giochi sani e genuini d'un tempo. La giornata è organizzata dalla cooperativa Mela Arancia per il terzo anno consecutivo. Sono realtà un po' da tutta Italia, sono delle vere e proprie ludoteche itineranti con giochi fatti a mano, hanno varie esperienze di gioco per tutte le fasce d'età e per tutti i gusti, dal gioco cognitivo, dal gioco motorio, piuttosto che giochi di abilità, quindi una varia proposta che arriva da tutte le regioni d'Italia. A sostenere l'iniziativa c'è ancora una volta il comune di Pordenone. Questi bambini hanno bisogno di stare più insieme, di fare amicizie, di stringere relazioni che non siano sempre immediate, da filtri che possono essere degli schermi piuttosto che i social, dove tutto è virtuale. Qui invece c'è il gusto di riscoprire i giochi di un tempo, di lavorare con la fantasia, di sporcarsi talvolta le mani, di poter ridere, stare insieme in gruppo. Quindi è una bellissima occasione per riscoprire quelli che per noi erano una volta giochi assolutamente normali, chi verrà lo potrà vedere, oppure giochi addirittura che erano dei nostri nonni. Lavorare di fantasia in questo caso è davvero un punto di forza. Disponibili due punti ristoro e non spazi con fasciatoio per i più piccoli. In caso di maltempo la manifestazione si trasferirà al Palaviola di Torri in via Peruzza 8. Per bambini e famiglia in arrivo a Pordenone in via Le Dante 17 è anche un'altra novità, uno spazio per giocare e non solo. Verrà inaugurato venerdì 4 ottobre. Uno spazio che non c'era e di cui sentivamo invece l'esigenza. Ci saranno attività per i bambini, attività per i genitori, formazione anche per gli insegnanti. E poi vedremo che cosa riusciamo a creare di nuovo.